Presenti 412, votanti 276, estenuti 36, maggioranza 189, favorevole 127, contraria 249, la Camera respinge. Onorevole Russo, c'è un parere favorevole, quindi presumo che non lo mettiamo ai voti. Presumo, onorevole Russo, non lo mettiamo ai voti. Onorevole Davilla, c'è un parere favorevole con riformulazione. Va bene, accolta la riformulazione, così come per l'onorevole Bernini, Massimiliano. Va bene, accolta. Allora, sul numero 13 Ricciatti c'è un cambio del parere che diventa favorevole, così come riformulato dal Governo. Onorevole Ricciatti, va bene, quindi è accolto così e siamo a posto così. Bene, si è così concluso l'esame degli ordini del giorno. Sospendiamo a questo punto l'esame del provvedimento che riprenderà alle ore 15.30 con le dichiarazioni di voto finali e la votazione finale. La seduta è sospesa. Grazie. 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 Grazie.